quelli che giocano come voi? Sì, sicuramente il mio non è un esplore personale, quello che ho fatto è in merito della squadra perché da solo non potrei mai giocare e quindi in merito a questi miei compagni Sì, ma noi sapevamo di dover affrontare una squadra che forse sapeva stare meglio in campo di noi sapevamo però che l'agilità e la velocità davanti le avrebbero messi in difficoltà Infatti me lo avevi detto qualche giorno fa Sì, e infatti siamo riusciti a segnare in quella maniera che c'è anche delle altre occasioni quindi direi che tutto sommato quello che avevamo preparato e quello che si sperava oggi c'è riuscito pienamente Una gran bella soddisfazione quella che il Torino si è tolta a Beveren conquistando quell'accesso ai quarti di finale che era il primo ma non l'ultimo obiettivo del Torino Luciano Moggio Ma diciamo, io vorrei parlare della partita sono rimasto veramente impressionato dal carattere dimostrato dal Torino io conosco questi giocatori e so quello che sanno andare in campo oggi hanno dimostrato tutto il loro attaccamento al Torino e la voglia proprio di vincere la partita e comunque di non essere eliminati contro un avversario che non ricordiamo ha fatto delle vittime illustri l'ultima di quelli, l'Atletico Bilbao Direi, con Gigi la dice, un'interpretazione quasi perfetta del calcio moderno Noi pensavamo di interpretare una partita così come ci è riuscita i ragazzi sono stati veramente molto bravi il Beveren ha riconosciuto la nostra superiorità io arrivo adesso dalla conferenza stampa e devo dire che mi fa piacere questo riconoscimento perché per noi è importante perché dimostra che questa manifestazione le siamo riusciti a entrare proprio capirla bene e poi soprattutto anche perché io ne sono convinto e lo ero anche prima che noi siamo all'altezza del miglior calcio europeo e questo ci dà questa soddisfazione anche questa qualificazione Gigi lo so che tu non vuoi fare ovviamente nomi a te interessa il complesso da sempre dovessi scegliere un uomo stasera chi indichereste? Ma io devo dire ancora una volta devo parlare della squadra perché avevamo preparato questa partita proprio nei minimi particolari poi certamente non è che se una prestazione di qualcuno è un po' migliore per carità la tengo per me perché non mi piace proprio così come principio devo dire che la squadra si è schierata bene attenta e soprattutto siamo riusciti a creare quel contropiede che pensavamo di poterlo fare l'abbiamo fatto e vincendo questa partita è importantissimo perché ci servirà anche per il futuro grazie a tutti